Ciao ragazzi, sono sdraiato perché oggi un po' mi fa male, forse perché non ho fatto le punture di cortisone ieri e quindi ce l'ho già nel culo, ai 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 che dolore, che fastidio porca puntata, comunque vi volevo condividere il mio profilo di TikTok perché se vi volete aggiungere, cioè se vi volete seguire anche lì, anche lì posso fare delle live, visto che lì sto a mille e passa iscritti, cioè mille e passa follower, ho la possibilità di fare delle live, quindi se vi può interessare aggiungetemi, cioè seguitemi, vi lascio il link del mio profilo TikTok, un saluto a tutti, mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate like eccetera eccetera, ciao!